Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è tornato a Kiev in visita ufficiale, ospita del presidente Zelensky. Sul tavolo la discussione sull'estensione dell'accordo del grano. Guterres ha tenuto a precisare la posizione di totale sostegno all'Ucraina. La posizione delle Nazioni Unite, a cui ho inserito è chiaro. La invasione dell'Ucraina è una violazione dell'U.N. Charter e dell'internazionale. La sovranità, l'indipendenza, l'unità e l'integrità dell'Ucraina devono essere abbandonati nella sua internazionale riconosciuta. Le esportazioni ucraine furono interrotte con l'inizio dell'invasione russa. Dopo lunghi negoziati, mediati da Nazioni Unite e Turchia, Mosca ha concordato a luglio di garantire la sicurezza delle navi cargo per trasportare prodotti agricoli. L'accordo scade il 18 di marzo.